ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube nel mio piccolo laboratorio oggi leggeremo di nuovo il volantino della lidl con le uscite per il fai da te ma fai da te sull'automobile questo è il volantino con le uscite comprese fare il 21 e 27 marzo 2022 e giovedì 24 marzo troveremo in vendita alcuni articoli adesso metterò il volantino sul bancone guarderemo gli articoli e li commenteremo assieme e dato che qualcuno già lo possiedo vi darò anche le mie impressioni quindi iniziamo dunque andando a pagina 30 e 31 del volantino troviamo alcuni prodotti per prendersi cura della nostra automobile il primo articolo che troviamo in alto è un rotolone di carta assorbente multiuso e non si tratta di un classico rotolone di carta assorbente questa è fatta davvero molto bene carta resistente è davvero molto duratura 2 euro 89 effettivamente non c'è tanto da commentare sul rotolo di carta però possedendola e utilizzandola dal diverso tempo comunque mi ci sono trovato bene alla particolarità che può essere utilizzato sia lo svolgimento interno come vedete dall'immagine oppure svolgendolo dalla parte esterna come si fa assolutamente con tutti i rotoli più in basso troviamo invece alcuni spray per la pulizia dell'automobile spray per cruscotto oppure schiuma detergente per interni per poter pulire sia il cruscotto in plastica e l'altro invece serve per gli interni quindi sedili eccetera un altro spray per superfici in plastica è un detergente per catene questo serve per pulire le catene sia delle moto che della bici prima di vendere la moto questo prodotto l'ho utilizzato con grande soddisfazione per pulire la catena obiettivamente funziona benissimo adesso lo utilizzerò sulle mie bici elettriche questa invece un olio di silicone multiuso serve a lubrificare come vedete c'è un immagino di una cerniera quindi per poterlo spruzzare poter lubrificare tutte quelle parti che siano in attrito in basso un altro prodotto per arrivare gli pneumatici questo non l'ho mai provato sinceramente non so che effetto abbia quanto duri nel tempo eccetera e costerà 1 euro e 79 da 600 ml invece prodotti di prima saranno da 300 ml per i primi quattro prodotti 200 ml l'olio in silicone più in basso troviamo altri due prodotti uno e spray gli altri invece sono due flaconi questi vanno messi all'interno della vasca del tergicristalli una volta spruzzata l'acqua per pulire il vetro fu riuscirà anche il prodotto che ci aiuterà a pulire molto meglio e questo invece uno spray sciogli ruggine l'ho comprato tempo fa forse l'ho utilizzato male non sono riuscito a ottenere un buon risultato mi sa che devo fare qualche altro esperimento costerà 1 euro e 49 anche questo 300 ml poi ci sono alcuni diffusori di aromi quindi deodoranti per automobile un box per la pulizia dell'auto all'interno troveremo dei panni delle spugne e un accessorio per poter pulire il vetro con più comodità sulla destra un set per la cura dell'auto quindi ci sarà una spugna un erogazione automatica del prodotto uno shampoo e una spugna per la pulizia più in basso ancora invece troveremo un panno in pelle per auto questo lo possiedo pure e lo utilizzo però prima di utilizzarlo lavatelo per bene perché altrimenti rilascerà tantissimi pelucchi ma andiamo alle cose più interessanti quelli erano semplicemente dei prodotti che erano all'inizio della sezione dedicata alle automobili quindi ve ne ho parlato ma gli articoli più interessanti li troviamo in questa pagina quindi il caricabatterie per auto questo ve l'ho già recensito il modello ulg di 10 a 1 può caricare batterie da 12 e 24 volte con un amperaggio compreso fra 20 e 300 avrà 8 programmi che ci permetteranno di caricare diversi tipi di batterie in diverse condizioni funzionerà anche con un antellettore di carica e anche la funzione di disolfatazione quindi un prodotto molto valido e molto completo lascerò il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere l'articolo per bene conoscere tutte le sue funzioni che anticipo però che sul display potrete vedere sia il programma utilizzato il voltaggio raggiunto e il voltaggio attuale della batteria quindi funziona anche come testa ricavi sono separabili insomma diverse funzioni davvero interessanti quindi andate a dare un'occhiata alla recensione per vedere per bene il prodotto più in basso invece ci sarà un click idraulico da 3 tonnellate è un'altezza di sollevamento di undici centimetri e mezzo ovviamente undici centimetri e mezzo non sarà l'altezza da terra ma di quanto potremmo sollevarlo quindi quanto sarà l'escursione del pistone il funzionamento sarà tramite questa leva quindi abbassandola più volte man mano solleveremo l'automobile e per poter abbassare di nuovo l'automobile basterà inserire questo bastone in basso sul sotto al click idraulico ruotarlo e lentamente si abbasserà e questo tipo di click si può utilizzare anche per fede da te per la costruzione di diversi progetti eccetera ma è un argomento che tratteremo eventualmente in futuro sulla destra in alto a 24 euro e 99 troviamo invece il carrellino sgabello carrello per lavori di montaggio due in uno perché è possibile utilizzarlo sia in posizione di lettino che in posizione di sgabello questo già ve lo recensito tra l'altro è uscito di recente è andato a ruba come al solito quindi lo hanno riproposto anche di questo vi lascio il link nel primo commento e nella descrizione per poter vedere le mie impressioni potrei vedere come si monta eccetera sulla sinistra troviamo anche un rialzo per bambini ovviamente risponde a tutte le normative eccetera a costo di 11 euro e 99 e sulla destra un set di cavi elastici per portapacchi 10 12 o 18 pezzi questi ne ho una grandissima quantità perché le utilizzo sia quando trasporto qualcosa in vespa lo utilizzo per coprire per esempio il barbecue per coprire la stessa vespa con il telo antipioggia quindi davvero molto utili ed è possibile collegarli uno all'altro per avere un'estensione maggiore sono alcuni sono di forma piatta altri sono di forma circolare con ganci moschettoni eccetera e vengono venduti all'interno di questa confezione trasparente continuando nella pagina successiva troviamo un altro accessorio interessante che serve a mantenere ordinato il bagagliato dell'automobile e non solo perché si tratta di alcuni organizer all'interno dei quali si possono mettere diversi tipi di oggetti hanno diverse misure e nella parte posteriore e inferiore hanno un velcro che ci permette di fissarlo all'interno del portabagagli e non si sposteranno durante le curve comunque durante la guida dell'automobile mantenendo quindi tutto in ordine le dimensioni del primo saranno di 35 per 19 per 29 invece il secondo sarà di 50 per 21 per 16 avranno un costo di 5 euro e 99 ciascuno e in basso invece due kit particolari il primo è un kit di rimozione graffi a 5 euro e 99 in dotazione ci saranno due tubetti elimina graffi quattro panni per lucidatura quattro nasi abrasivi e una barra per lucidatura sinceramente questo non l'ho mai utilizzato sull'immagine riportato un graffio un bel solco su una carrozzeria in realtà io penso che questo vada utilizzato come un polish quindi micro graffietti che si formano toccando le superfici magari lo strofinio di qualche anello qualche graffietto superficiale sulla parte lucida della carrozzeria non dei veri e propri graffi o dei solchi che possono essere provocati da qualcosa che rimuove del materiale in questo caso utilizzandolo come un polish probabilmente si riuscirà a rimuovere i micro graffietti però non l'ho mai utilizzato quindi sinceramente non posso esprimermi più di tanto il costo 5 euro e 99 sicuramente è invitante quindi vale la pena eventualmente di provare ma sono un pochettino dubbioso sul risultato soprattutto per quello che riportato nell'immagine sulla destra invece c'è un set di rinnova fari su questo credo che possa funzionare perché vengono date in dotazione delle carte abrasive dei panni e dei prodotti per lucidare come sapete ho già fatto un video che ha raggiunto più di 500 mila visualizzazioni per la lucidatura dei fari in realtà rimuovendo la patina superficiale quindi con la carta abrasiva e poi passando dei prodotti se i fari non sono molto opachi si potrebbe riuscire ad ottenere un buon risultato bisognerà vedere che qualità hanno i nastri abrasivi e i prodotti da utilizzare però in linea di massima come principio ci siamo anche la grana corrisponde 2000 3000 e 5000 io vi consiglio di iniziare con una grana un pochettino più grossa se i fari sono molto opachi per raggiungere grane sempre più fine e poi seguire le istruzioni fino al raggiungimento della lucidatura e costeranno 11 euro e 99 in alto a destra invece troviamo degli spray alcuni sono spray di vernice altri sono spray per la manutenzione il primo infatti è uno spray di vernice opaca per auto semplicemente per verniciare in basso invece troviamo uno spray per alte temperature questo va bene per verniciare tutte quelle parti che si surriscaldano può essere utilizzato anche in ambito domestico ad esempio un tubo di un camino alcune parti di una stufa pellet termosifoni marmitte eccetera quindi non solo per l'automobile perché resistendo alle alte temperature la vernice rimarrà intatta a differenza dell'altro tipo questa invece una vernice per cerchioni che non ho mai utilizzato è un detergente per freni questo l'ho già utilizzato una volta spruzzato vedrete tutta la sporcizia sciogliersi e la superficie ritornerà perfettamente pulita più a fianco invece c'è uno spray zinco alluminio che non ho mai utilizzato quindi su questo non posso darvi alcun parere ma solitamente va spruzzato in tutte quelle parti dove c'è il rischio di ruggire quindi una volta zincato dovrebbe proteggerlo insomma però va fatto un trattamento comunque non avendolo mai utilizzato non so dirvi se va bene o meno e in basso sulla destra invece un set di tappetini per auto anti scivolo e fono assorbente ed il tappetino del conducente avrà un rinforzo per evitare che si rovini con il movimento dei tacchi quando si vanno premendo i pedali e sono anche adatti per essere puliti con l'idropulitrice a costo 7 euro e 99 e allora ragazzi anche oggi abbiamo finito con il volantino della lidl speravo ci fossero più utensili per il fai da te magari lo smonta bulloni che serve appunto per svitare le ruote dell'automobile invece niente dovremo aspettare qualche altra uscita accontentiamoci però di questi prodotti quindi il carrello lettino il caricabatterie e il cric utensili utili che per la manutenzione dell'auto e non solo possono tornare molto utili quindi spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia stato utile vi invito ad iscrivervi al mio canale iscrivetevi anche al mio canale telegram nel quale trovate tante offerte anteprime sulle uscite dei volantini eccetera eccetera cliccate sul tasto mi piace qua giù cliccate anche sulla campanella per poter attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto